Il Presidente del Rotary Club di Lentini, Dottor Alessandro Bruno, questa sera all'inaugurazione del quadro di San Domenico, restaurato dai soci del Rotary Club di Lentini, è consegnato alla presenza dell'Arcivescovo alla città. Un impegno che il Rotary ha mantenuto e che mantiene tutto l'anno per la buddista culturale. Presidente, un impegno importante? Sì, per noi è un impegno importante, un saluto a tutta la città e alla comunità di Lentini e per noi è sempre un onore stare vicini alla nostra parrocchia, alla nostra chiesa madre e di poter contribuire nel tempo, come abbiamo già fatto, questa è la seconda volta che rispondiamo lo stesso quadro, già negli anni 90 e tutt'oggi è ancora di nuovo e lo portiamo quindi alla visibilità tutta la nostra città. Il nostro intendente è sempre di continuare in questo sforzo di stare vicino per quanto va da buddista culturale alla nostra città, alla nostra comunità.